John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, 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 partiamo dall'inizio perché oggi è stata la conferenza di Tiago Motta, l'avevo detto nel video nel quale vi parlavo di cabal alla Juventus che oggi Tiago Motta avrebbe parlato, ho ascoltato la conferenza, in realtà avrei voluto farlo anche di altri allenatori che si sono presentati ma non ho avuto modo perché sono stato molto impegnato in questo periodo, sto costruendo altre basi lavorative parallele a YouTube quindi nel frattempo faccio un miliardo di cose però oggi ho avuto il tempo e il modo di ascoltare la conferenza stampa di Tiago Motta e visto che me la sono presa anche come impegno, vi dico la verità, me la sono segnalata sul calendario e avevo voglia oggi di stare a casa ad ascoltarla perché la Juventus, secondo me, sulla carta è l'inizio da numero uno per tenere testa all'Inter nel prossimo campionato e ora l'Inter la conosciamo, sta anche comprando abbastanza poco, non è che abbia bisogno chissà di che cosa di comprare, sta puntellando però la Juventus che già lo scorso anno per parte della stagione aveva dato fastidio all'Inter e poi era crollata con Allegri, quest'anno ha preso Tiago Motta, sta facendo comunque una signora squadra e tutto quanto e quindi ero molto interessato ad ascoltare le prime parole di Tiago Motta e devo dire di aver avuto delle indicazioni abbastanza interessanti che, vi dirò la verità, mi fanno riflettere su quello che potrebbe in qualche modo essere l'approccio di Tiago Motta a Torino oggi era a casa quindi volevo vederla, eccomi qua ora vi dico anche un'altra cosa, mi sono recuperato un po' le amichevoli varie hanno già dato diverse squadre amichevoli, ha già dato l'Inter, ha già dato la Roma, ha già dato il Napoli se vi va di vedere un video nel quale faccio un recappone delle amichevoli di quello che ne penso io, di quello che mi è sembrato delle mie prime impressioni fatemelo sapere con un commento qua sotto, scrivetemelo tutti quanti e io riesco a capire che voi avete voglia di vedere quel video magari entro stasera ve lo faccio avere detto questo, la prima idea che mi ha dato Tiago Motta alla sua conferenza stampa è stata quella di un allenatore pragmatico ma pragmatico nel modo giusto, non pragmatico tanto per non pragmatico perché doveva dimostrare qualcosa a qualcuno un allenatore che ascoltava quello che gli si diceva rispondeva alle domande con grande rispetto, con grande intelligenza senza strafare, uno che sa quello che dice e pensa per bene prima di sparare a zero su determinati argomenti ora io credo che la stabilità di un club parta direttamente dalle prime conferenze stampa la conferenza stampa di presentazione per quanto possa sembrare inutile perché poi è una conferenza stampa di presentazione secondo me invece è tanto utile, è tanto importante è importante per la credibilità che tu ottieni dai tuoi calciatori perché i calciatori non crediate che non la ascoltino la conferenza di presentazione la ascoltano perché anche loro che comunque adesso stanno la maggior parte in vacanza i più forti quelli che tornano dagli europei o dalla Coppa America sono in vacanza quindi non è che abbiano avuto modo di parlare o di lavorare con Tiago Motta magari qualcuno sì l'hanno incontrato ma di lavorare no e sono tutti curiosi di vedere come partirà questo nuovo ciclo e quindi ascoltano le idee, le intenzioni del mister hanno grande voglia di ascoltarlo tanto che tanti problemi sono nati nelle varie conferenze stampa se avete seguito un minimo sapete benissimo che qualche calciatore spesso si risente proprio dicendo quando ho sentito che l'allenatore ha detto quelle parole in conferenza stampa mi sono reso conto che quella squadra non era per me eccetera eccetera e poi anche per l'indicazione che dai ai giornalisti cioè quando Murigno è arrivato l'indicazione che ha dato a Roma è stata farò la guerra con i giornalisti e i giornalisti gli hanno fatto la guerra dal primo all'ultimo giorno De Rossi la prima cosa che ha detto quando è arrivato a Roma è stata io vi do a me, cioè io sarò sempre sincero certo certe cose non posso dirle e vi dico non le dicono non è che giro intorno, non te lo posso dir però sarò sempre sincero voglio però che voi siete sinceri con me e al netto di un paio di situazioni in cui poi De Rossi si è anche incazzato diciamo che i giornalisti, la piazza romana non è semplice da gestire sono sempre stati molto carini e simpatici nei confronti di De Rossi sono sempre stati dalla parte di De Rossi ecco partire con una conferenza stampa intelligente gestita nel migliore dei modi è dal mio punto di vista la cosa migliore che un allenatore possa fare e la cosa che mi è piaciuta in ottica Juventus per Tiago Motta è che nella sua partenza aveva già iniziato a parlare di ciclo Tiago Motta parla già di ciclo ora, secondo me la credibilità di un allenatore si costruisce anche con queste robe qua ti accorgi subito se è un allenatore che sa di navigare a vista o se è certo che il progetto avrà un divenire, un continuo ora non voglio fare sempre l'esempio De Rossi perché io De Rossi ce l'ho in casa o Mourinho ma ce l'ho avuto in casa quindi è quello che so un po' di più però nelle parole appunto di De Rossi quando è arrivato non c'è mai stata l'idea di dire questo tra sei mesi lo cacciano tra tre quattro mesi lo cacciano anche se poi era quello l'obiettivo cacciare De Rossi e poi andare all in su Conte in estate che poi contando dal Napoli De Rossi ha fatto bene, è stato confermato però dalle parole di De Rossi c'era sempre l'idea di costruire un ciclo poi tre mesi, quattro mesi dopo la Roma deciderà io so benissimo, diceva De Rossi, qual è il mio futuro parlando di ciclo, non è scontato, non cerca parafulmini Tiago Motta parla di ciclo, parla di ciclo e poi utilizza parole magiche che ai tifosi secondo me dopo aver avuto Allegri non possono che fare impazzire perché parla di una Juve orgogliosa e felice dopo ogni partita chiedendo il massimo dai propri calciatori che per me è una cosa non scontata cioè nel ciclo Allegri che tanto è dispiaciuto ai tifosi bianconeri l'obiettivo non era quello di essere orgogliosi della propria Juventus della propria squadra, della squadra che i tifosi della Juve tifavano anzi molto spesso quando la Juve vinceva o otteneva comunque qualche punto, un punto, quelli l'idea dei tifosi era sempre quella di dire che schifo, che schifo e quasi di vergognarsi del supporto che si dava al club ecco, l'obiettivo era vincere ed era molto in linea un po' con le idee della Juventus la Juventus è molto vincere, non è importante è l'unica cosa che conta e Allegri sposava secondo me appieno questo progetto e questa idea di calcio qua cioè Allegri non gli fregava niente di giocare a pallone non gli fregava nulla di far underperformare tutti i calciatori l'obiettivo era quello di arrivare ad avere una squadra che sapesse che potesse ottenere il massimo anche con il minimo sforzo, ma il massimo quello che dice Tiago Motta è subito mettersi dinanzi di fronte ad Allegri e chiedere il contrario ai propri calciatori ovvero non una Juve brutta ma magari vincente una Juve felice, una Juve orgogliosa una Juve che quando finisce la partita che si vinca, che si pareggia o che si perda l'obiettivo è arrivare al massimo questo è quello che emerge dalla conferenza stampa di oggi questo è quello che Tiago Motta fa emergere che la cosa che vuole è che i tifosi vadano a casa contenti di aver visto i propri calciatori sputare sangue di essere orgogliosi di difare la propria squadra perché i calciatori hanno onorato la maglia poi le cose possono andare bene, le cose possono andare male perché insomma una buona prestazione un 100% di impegno non ti garantisce al 100% della ripetizione una vittoria quindi ci sta che possa accadere il contrario però l'obiettivo è quello di aver dato il massimo è stato molto freddo su Chiesa ha detto sì abbiamo molti grandi calciatori uno di questi è Federico Chiesa ne ha parlato così, è sembrato molto freddo ma è chiaro, ha deciso già e l'hanno detto a più riprese che Chiesa non fa parte del progetto Juventus quindi se lo riescono ad accedere a lui lo fanno solo che è contento non ha senso lo dare, tessere le lodi di Chiesa quando è stato chiaro che secondo Tiago Motta non è adatto al gioco che lui vorrebbe dare alla Juventus anzi vi dirò, se avessi detto questa frase un anno e mezzo fa mi avrebbero preso per pazzo ma oggi per Tiago Motta da quanto si vince un po' dalla conferenza stampa e poi da quanto si legge in giro sarebbe più interessante avere a disposizione sia il Mekar che Chiesa perché se il Mekar riesce a fargli fare quel gioco che vuole fare lui quindi magari quel doppio gioco attacco-difesa, quel sacrificio offensivo e tutto quanto rispetto che invece magari avere un Chiesa che non ti dà quello che gli chiedi tu e magari è più forte, due volte, tre volte più forte ma non riesce a gestire ciò che tu gli stai chiedendo una cosa che invece ho visto è che dalle sue parole sembrava che quando andava a parlare di Kenan Hildiz quasi gli brillassero gli occhi ed è una cosa che fa capire quanto Tiago Motta farà un lavoro enorme dal mio punto di vista sui giovani, sui calciatori in prospettiva quanto punterà tantissimo su quel tipo di calciatori là saranno fondamentali secondo me fondamentali i giovani nel progetto di Tiago Motta e come parla di Hildiz si vede tantissimo e poi ci sono state delle parole di Giuntoli che mi hanno lasciato abbastanza esterefatto perché io ricordo che la Juventus ha già preso ha già preso Di Gregorio ha già preso Cabal ha già preso Douglas Luiz ha già preso che friend Turam e le parole inizio conferenza stampa di Giuntoli sono state prenderemo almeno altri tre calciatori e questo vuol dire ragazzi che la Juventus farà ancora divertire i propri tifosi servirà sicuramente un terzino a sinistra servirà sicuramente che per adesso è stato preso Cabal con Cambiaso quindi servirà un terzino all'altra parte servirà sicuramente cioè Cambiaso già c'era Cabal è stato preso come vice di Cambiaso servirà sicuramente un centrale di difesa la Juve voleva prendere i calafiori poi era andata all'Arsenal ma comunque sembra che adesso all'Arsenal sembra che l'Arsenal non abbia chiuso insomma poi capiremo quello che succederà e nel frattempo la Juventus avrà bisogno forse anche di un'ala se partono sia su Lecce e Chiesa e chissà che poi su Cup Miners la Juventus non ci vada insomma dopo aver fatto quattro acquisti di cui due di una portata importante aver preso poi il portiere titolare e un ottimo terzino di ripiego beh insomma dire che se arriveranno ancora almeno tre acquisti e quando poi un direttore sportivo parla di tre acquisti probabilmente proverà a farne almeno cinque o sei perché lo sappiamo ormai che quando parla un direttore sportivo se viene sempre un po' più stretto e allora vuol dire che la Juventus è pronta ancora ad una rivoluzione poi Tiago Motta invece di mercato non parla mai e devo dire che questa è una cosa che ho apprezzato abbastanza vi dico la verità perché parlare di mercato ed essere l'allenatore secondo me è un po' stupido come cosa cioè io ho sempre detto che per far sì che tutto vada bene il presidente non deve parlare di mercato l'allenatore non deve parlare di mercato chi deve parlare di mercato è il direttore sportivo quello che fa a mercato l'allenatore può parlare di una figura che è interessante per il club cioè può dire tipo a me mi piacerebbe avere un attaccante che sa difendere il pallone però parlare di mercato nel dettaglio è una follia perché sennò finisce che Sarri vuole Ricci Lotito va in conferenza e dice il mercato o so io quello che devo fa' quindi svaluta anche la figura di Fabiani e poi la Lazio prende magari a centrocampo Guenduzzi cioè che comunque non è che è per forza peggio o meglio di Ricci però non ci azzecca un cazzo anzi vi dirò di più non Guenduzzi che poi è arrivato come sostituto ma all'inizio non era quella l'idea Guenduzzi addirittura ha preso Kamada cioè che non ci azzecca proprio niente ragazzi ed è questo il problema per me l'allenatore lo dico sempre deve fare l'allenatore il direttore sportivo deve fare il direttore sportivo il presidente deve fare il presidente e questi sono ruoli che devono essere scandagliati e ognuno deve rispettarli nel migliore dei modi secondo me quindi il fatto che Tiago Motta abbia proprio deviato ogni tipo di domanda sul calciomercato per me è stato assolutamente un aspetto da apprezzare ecco è stato salutato Rabiot in modo abbastanza freddo d'aggiuntoli anche Tiago Motta ha detto un grande amico in bocca al lupo divertiti eccetera quindi Rabiot adesso lo sappiamo non farà parte del centrocampo della Juventus del prossimo anno ora era abbastanza palese dopo che la Juve aveva preso sia Douglas Luiz che Frenturam era abbastanza palese che anche Rabiot non sarebbe rimasto anche se poi se vai a prendere Cup Miners vuol dire che comunque Rabiot potevi anche permetterti ritenerlo però era diciamo abbastanza chiaro Rabiot ragazzi secondo me è stato un prolungamento di quanto cioè non so dove sarebbe quest'anno la Juve se avrebbe entrato o meno la Champions League qualora e non ho sbagliato il congiuntivo avesse perso Rabiot lo scorso anno l'ho solo invertito prima che poi la gente mi scatafascia la minchia qui sotto perché non riuscite a capire quando è un congiuntivo giusto e quando è un congiuntivo sbagliato e va arrabbiate con me al di là di questo ogni tanto lì sbaglio anche io ci sta come tutti però questo non era sbagliato lo scorso anno la Juve ha deciso di rinnovare un anno di Rabiot per me non ha senso io te lo dicevo l'anno scorso dicevo ma ragazzi ma rinnovare il Rabiot per un anno che cazzata è cioè l'anno prossimo ti si ripresenta il problema poi hai avuto poi oggi ti dico va bene magari con Pogba che è successo è successo meno male che hai tenuto Rabiot perché sennò il centrocampo quest'anno arrivati ottavo senza Rabiot però comunque è stato solo un rinviare il problema che ora finalmente stai cambiando però è giusto che Rabiot vada via anche perché secondo me Rabiot avrebbe firmato per un altro anno e basta quindi avrebbe chiesto altri soldi sempre per un altro anno nelle parole di Tiago Motta e anche questa cosa molto molto importante finalmente uno che non sceglie lui ha detto tutte le competizioni saranno importanti e affronteremo tutte le competizioni nello stesso modo finalmente ripeto una persona che non sceglie sono stufo di sentire allenatori che devono fare dei sacrifici addirittura li ha fatti Spalletti addirittura Spalletti in conferenza ha lasciato alludere al fatto che abbia fatto dei cambi con la Croazia per essere più pronto agli ottavi che per me è una follia quando giochi sette partite in un mese per vincere un europeo è una follia fare questo ragionamento qua e negli anni molto spesso abbiamo visto allenatori in tutte le squadre che fanno dei sacrifici e considerano la Coppa Italia è inferiore al campionato il campionato inferiore della Champions League il mondiale per club magari tra la Champions League e il campionato cioè che buono mondiale per club arriva adesso sono stronzate cioè per me tu devi dare il massimo in ogni competizione sic ma come fai che ci sono 70 partite l'anno come farà Tiago Motta ovvero responsabilizzando anche le seconde linee nell'ultima stagione al Bologna i vari e la Zuzzi Ndoie non erano titolari sulla carta e poi qualcuno magari lo è diventato ma sulla carta non erano titolari eppure hanno giocato quanto Orsolini ad esempio delle volte anche di più di Orsolini ma perché? perché se a te quel giocatore ti serviva lo mettevi la capacità grande di Tiago Motta ed è quello che mi lamento sempre quando la gente dice si gioca troppo sicuramente si gioca troppo però la mancanza di capacità che non capite è quello di non riuscire a valorizzare ogni giocatore se tu c'hai una rosa di 25 giocatori anche il tuo 25esimo giocatore deve avere un ruolo nel club che vuol dire non fare il titolarissimo contro l'Inter nel derby d'Italia che magari ti vale lo scudetto è chiaro però vuol dire che se io in una Juventus Empoli vado a far giocare Nicolussi Caviglia e Miretti in mezzo al campo come i due titolari io posso fidarmi di metterli i titolari perché? perché li ho costruiti e perché in questa stagione hanno preso una consapevolezza tale da poter giocare i titolari ed essere comunque molto molto validi questo è il lavoro che deve fare Tiago Motta quando Tiago Motta dice tutte le competizioni sono importanti vuol dire che avrà sempre una squadra all'altezza in ogni competizione poi magari inizia il campionato e prende cazzi ovunque perdonate il francese ma ogni tanto mi scappa anche e può capitare però comunque intanto le premesse sono quelle giuste dal mio punto di vista poi ha parlato del tipo di centrocampista che vuole lui dice che lui sta cercando tutti i centrocampisti in grado di fare tutto in grado di costruire di attaccare di difendere e tutti i centrocampisti della Juventus della prossima stagione lo sanno fare diciamo che questo è solo un indizio di come giocherà la Juve di Tiago Motta ma bene o male lo sapevamo già nel senso che al Bologna era esattamente quello aveva bisogno di centrocampisti che facessero qualunque cosa facessero la qualunque nel centrocampo e questa è una cosa che sapevamo già e poi e poi devo dire che ve lo dico da esterno la conferenza di Tiago Motta mi ha gasato tanto mi ha gasato anche perché poi ha parlato della duttilità ha detto che stanno puntando su molti calciatori che sono duttili e tanti calciatori nella rosa della Juventus hanno questa questo pregio ora voglio dire di fare attenzione attenzione che per Tiago Motta il must sono proprio i giocatori duttili cioè Tiago Motta nella stagione a Bologna ha fatto già i terzini centrali centrali terzini le mezzali da mediani le ali da mezzali i trequartisti gli attaccanti cioè gli ha importato poco del ruolo bensì gli importava di quello che potessero dare in campo ricordo che contro la Roma se non vado errato il Lazuzzi fece un gol in mezza rovesciata e partiva da mezzala e lui in realtà è un ala d'attacco se non vado errato quindi questo fa capire anche quanto abbia cambiato durante la stagione poi la mezzala la faceva magari da schieramento iniziale però dopo magari due minuti lo trovavamo già in attacco e si sovrapponeva con l'attaccante che magari era Orsolini che partiva un pochino più basso Orsolini non c'era contro la Roma era in tribuna ma faccio un esempio per farvi capire quello che intendo quindi il fatto che siano molto duttile lui fa tanto con la duttilità e per lui è il top cioè per lui è più importante avere dei giudatori che sappiano fare 3 o 4 ruoli rispetto a avere dei campioni che sappiano fare un ruolo soltanto per questo vi dico di fare molto attenzione tra l'altro dice anche una frase che per me il mondiale per club dimostrando subito che il mondiale per club è una priorità e che la Juventus vorrà vincerla quindi vedremo un attimo Tiago Motta chiaramente se ci arriverà perché per me farà un progetto molto lungo però bisognerà poi vederlo in campo come guiderà la Juventus state prossima nel mondiale per club vi ho detto la cosa bella è che mi pare proprio convinto di un percorso lungo io quando sentì al tempo la conferenza stampa di Garzia al Napoli un anno fa ad esempio non avevo la percezione anzi che avrebbe intrapreso un progetto lungo con il Napoli cioè dal momento dell'annuncio per quanto per me era una scelta rischiosa ma comunque accettabile perché io ripeto se l'avessero lasciato fino a fine anno sarebbero arrivati quarti o quinti comunque voleva anche il quinto posto per la Champions tranquillamente quinti ci sarebbero arrivati perché comunque erano lì poi tante squadre sono calate il Napoli aveva un andamento mediocre ma ci sarebbe arrivato quarto o quinto e l'hanno cacciato però al di là che l'hanno cacciato poi l'hanno cacciato un altro sinceramente io non ho mai avuto la percezione che Garzia desse l'idea di un allenatore su più stagioni cioè anche se il contratto diceva che lui comunque sarebbe rimasto per diversi anni io ho sempre detto vabbè questo se gli va bene fa un anno nella mia idea e poi l'anno prossimo il Napoli magari punterà su Conte perché nessuno vuole arrivare dopo Spalletti ok non ho mai avuto quell'idea con Tiago Motta quell'idea ce l'ho e ce l'avevo già in partenza quando la Juve la scelta per un progetto chiaramente solido però me la dà anche Tiago Motta nelle sue parole quando parla Tiago Motta mi dà queste vibes io ero curiosissimo della sua conferenza perché secondo me da qui passava tutto e secondo me si vede subito come si parte cioè dalla conferenza stampa vedi come si parte io ripeto faccio di nuovo il parallelismo con con faccio il parallelismo con De Rossi quando De Rossi è arrivato abbiamo detto in conferenza stampa subito abbiamo detto porca puttana questo quanto quanto sta a carico porca vacca questo che differenza fa cioè è assurdo è assurda la differenza che fa in questo momento per come sta rendendo e per quello che potrebbe dare Daniele De Rossi per me è veramente è veramente importante e sono contento perché finalmente al netto di come andrà in campo quando sentiremo le conferenze stampa dell'allenatore della Juventus finalmente sentiremo parlare di calcio finalmente sentiremo parlare di pallone finalmente sentiremo parlare di calcio cosa che con Allegri non succedeva più un po' come quello che dicevo di Murigno cioè si parlava semplicemente di massimi sistemi di atteggiamento di idee però di calcio non si parlava più e secondo me con Tiago Motta invece torneremo a parlare di calcio torneremo a sentir parlare di calcio non mi è piaciuto invece non mi sono piaciute le parole di Scanavino proprio all'inizio di intervista di Tiago Motta cioè non le ritengo all'altezza di un club che vuole vincere perché Scanavino è l'unico che è rimasto sul livello del mare di Allegri appena arrivato appena subito ha detto è l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League che è una cazzata perché sì ma sicuramente lo è però ste squadre Juve, Milan, Inter ogni anno devono puntare a vincere lo scudetto poi se arrivi quarto terzo e può capitare mica poi vince tutti gli anni va bene così però partire dicendo l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League e che palle cioè Tiago Motta ma chi è? Tiago Motta nelle sue parole ha sempre parlato di ottenere il massimo certo non ha detto stanno a fare il quadruplete vincendo la campione della Champions League e mondiale per club e poi tutte le supercoppe che arriveranno non lo ha detto ma perché sarebbe una stronzata dire una cosa del genere però Tiago Motta ha sempre parlato di dare il massimo non ha parlato di obiettivi minimi perché parlare di obiettivi minimi è dal mio punto di vista una follia è dal mio punto di vista una follia se alleni la Juventus è un passo indietro che non può permetterti di fare Giuntoli ha parlato vi dicevo di un colpo per reparto quindi probabilmente un difensore un centrocampista è un attaccante secondo me ne faranno anche di più nel senso faranno almeno due difensori cioè un centrocampista arriverà un attaccante ala credo arriverà e poi bisognerà capire se Milik rimane quello che succede in attacco eccetera credo sia rotto Milik ma non lo so Ken è andato via quindi bisognerà capire se la Juve prenderà un vice Vlaovic non lo so ne faranno anche di più secondo me di colpi Motta è stato umile senza esagerare è stato nel suo ha detto le cose senza nascondersi dietro un dito però devo dire che la conferenza stampa Iago Motta di oggi è stata promossa a pieni voti fatemi sapere se volete vedere il video delle amichevoli e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per il supporto che ogni giorno mi date e boccia l'allene come sempre ci vediamo al prossimo video